benvenuti ragazzi a romix oggi sfida challenge benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti a questo nuovissimo video ragazzi cosa c'ho in mano c'ho in mano il protagonista della challenge di oggi i cioccolati che sono caramelle schifose o caramelle buone chi vincerà il set il foto il foto set di epicos qualche cosplayer che andrò a vedere a raccimolare qua in giro quindi iniziamo subito con la sfida però non prima che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale di fatta campanella mettete like commentare e fa tutte cose che dovete fare sempre quindi ragazzi oggi sfida challenge della caramella schifosa ci sono caramelle uguali che possono essere buone o schifose chi sarà il cosplayer che non prenderà le caramelle schifose quello vincerà qui che ha preso le caramelle meno schifose tutte quelle buone ha vinto famo 3-4 manche dai famo così un po' così a casaccio diciamo chi vince vince il foto set e mo vado a prendere i cosplayer allora ragazzi abbiamo i tre partecipanti eccoli qua vieni qua venite vieni tu il primo partecipante tu sei come ti chiami? Lux Lux tu sei? io sono Nemurico Nemurucos Nemurucos tu invece sei? ah Lucard ah Lucard allora qua ora vi spiego voi girate la rotellina in base al colore della caramella vi prendete quella ah il mio 3 la mettete in bocca quello che prenderà la caramella più volte quella buona vincerà famo 3 round vediamo come va no tanto non è niente di vivi vivi non è un veleno e farà solo un po' strano non lo so sai che dopo l'assaggio pure io per vedere come mi va come mi va secondo me mi piace la cacarella reggi un attimo allora apriamo apriamo per vedere che sono tutte mischiate no io mischiate sono sigillate e non sono contaminate per il momento tu reggi un attimo questa o i miei assistenti sono diventati assistenti ragazzi voi votate nei commenti secondo voi chi è che vincerà fra loro tre voi votate nei commenti e scrivete se ci azzeccate non fate furbi ad andare avanti nel video ok allora mmm che buon odore di piedi ottimo allora iniziamo avvicinati fai vedere gira la rotellina ma non lo sento da qua eeeh che pensavo gira la rotellina gira la rotellina vediamo chi quella arancione allora pia la caramella arancione io che ho paura eh non lo so che potrebbe essere non lo so non lo so gira tu la rotellina vediamo vai gira 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 falla girare falla girare tu sei quella nera prendi quella quella esatto esatto gira la tu invece vediamo tu quella verde tutti i colori differenti raga tutti i colori differe bravi allora ragazzi al mio tre mettetelo in bocca uno due tre vai vediamo chi becca lo schifo tutte relazioni reazioni normali devo dire che gusto c'ha la tua buona tipo mela tipo mela ottimo tu invece non lo capisco però è zuccherosa è zuccherosa tu invece banana banana vi è andata di culo vi è andata di culo se volete potete anche sputarla ingoiarla come vi pare a te non è male no è buono ok dalle facce sembra l'odore fa schifo l'odore fa schifo è tremendamente schifoso a tu è fattibile ok allora ragazzi primo round tutto bene quel che finisce bene terzo secondo round gira la rotella se poi mi sento male ti denuncio gira gira vediamo che ti capita tu il verde questa volta il verde tocca a te pier verde piala piala verde piala verde a chi è raga ha perso la verde lui tocca a te girala a te invece quella giallognola prendi questa giallognola brava aspetta aiuto tocca a te vai tu invece ce l'hai nera cercala quella nera cerca quella la si bravo ragazzi uno due tre mettetelo in bocca vai vai ragazzi no non lo so è morta è lei è lei l'ha trovata l'ha trovata buona liquirizia liquirizia io non capisco i gusti però è buona è buona che gusto è il tuo che gusto è il tuo dimmelo lei sta a morire sta a morire credo che abbia trovato quella schifosa poteva essere di che stà bogger che sarebbe bogger in inglese caccole può essere può essere scola pensiero credo di sì cara se non ti piacciono le caccole potresti sputarla sputala qua nei meandri nel buco del buco dell'inferno questo ok è andata meno ha perso un punto tu invece era zucchero buona 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 puoi hai un'ottima possibilità per recuperare gira la rotella gira la rotella vediamo e quella rossa vai prendi quella quella rossiccia diciamo quella arancione che colore non si capisce vai gira la rotella per favore dell'uovo giallognola allora senta senta qua ci vuole una scelta vai una scelta accurata una scelta accurata diciamo lei lei oh gira tu quella quella chiara il giallo chiaro è questo il giallo chiaro senza pensarci ma questo che gusto dovrebbe essere e che ne so io uova marce ok uno due tre mettetela in bocca vediamo cosa di merda vediamo è morta lei è morta è morta no è buona a te è buona che gusto vuole il tuo non lo so è sempre lo stesso di prima però non lo so manco però era era fattibile il tuo che gusto lei sta sta morendo che gusto hai preso verde che gusto hai preso guarda vomito barth barth che vuol dire barth no stia vomitando il teo vomito significa vomito barth non me ce fa pensa come stai male male tu tu eran buona era si no è che è appiccicosa è appiccicosa non è che ti piacciono i gusti strani zi non è che hai gusti particolari le uova marce non credo siano buona pure io puoi essere buona ti va di tentare l'ultima volta magari ti dice culo perché allora due volte hai detto culo che dici no vuoi provare dai fatta due volte famo la terza gira quella multicolor multicolor questa qua no no multicolor è quella è quella è quella gira tu e basta questa qua vediamo aiuto tu c'hai quella giallognola questa qua giallognola gira tu girala quella giallo chiara giallo chiaro chiaro bravo non lo so che giallo io non ci leggo così non ci non leggo vabbè ragazzi proviamo uno due tre vai mettetela in bocca vediamo che gusto c'ha secondo me fa schifo però io me la mangio comunque fa schifo fa schifo il tuo sa un po' di detersivo però credo che abbia beccato il detersivo evidentemente da ragazzino si mangiava il detersivo tu invece non ho sapore però è fattibile quindi è andata bene perché c'avevi la bocca impastata da prima quindi a te è andata bene e a loro è andata male dobbiamo dobbiamo apparare fare il terzo round il quarto round definiti l'ultimo per andare ad apparare come dice regia chi sta in vantaggio secondo te non lo so ragazzi votate nei commenti secondo voi chi sta in vantaggio tu hai preso due marce e una buona giusto? due marce e due buone due marce e due buone questo è il quinto questo è il quinto tu invece ne hai preso tre buone e una marcia tre buone e una marcia ragazzi io sono fuori no il detersivo si non va se ti mangi il detersivo sono problemi tuoi io ho già perso vinci per la gloria prova per la gloria prova dai 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 si denuncia dai proviamo proviamo girala girala quella quella giallognina questa qua giallo già loca brava gira tu la sfida è tra voi due e quella arancione barth 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 simpson ecco la che ho preso io esatto gira la tua quella blu a te pure pure a te barth questa arancione qua ragazzi la sfida è tra te voi e non lo so allora trema o uomo marco dai pronti tre due uno vai mettetevole in bocca che gusto c'ha ragazzi qua mi stanno affinitute i caramelle a te è buona 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 che gusto è non lo so è sempre zuccherosa sempre zuccherosa il tuo buono però sono buoni tipo crema alla vaniglia tipo crema alla vaniglia il tuo invece che gusto è non ne ho idea non ne ho zucchero zucchero pesante zucchero pesante ragazzi se vi siete puliti la bocca al primo che trova la caramella buona senza marcia io mi dirò indietro giriamola al contrario giriamola al contrario io ho perso lei sentire indietro non la voglio rinchiare però resta qui con me resta qui fammi compagnia bevete pubblicità ta 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 para 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 fai lo stacchetto le vedi mi scomplice a voi lì e chi ce l'ha messo e chi ce l'ha ah 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 tocca a te ah oddio tocca a te oddio c'ho paura è vero me la stavo a svangare me la stavo me la stavo faccio io al posto su ozzi proviamo mi ha incastrato quella blu che cazzo è quella blu può essere tot pasta che vuol dire dentifricio ah magari me l'avevo un po' idea se vi è mangiato il dentifricio prova meglio del bordo i denti è buono prova tu gira gira vediamo che gusto tepi di nuovo arancione vuoi di nuovo girala di nuovo girala di nuovo se non ti piace dai quella nera quella nera cerca quella nera se ci sta ancora se no è finita zì è finita piena in altra era il jolly vabbè dai prendila prendila in bocca al lù arancione vai quella con le chiazzette con le chiazze aiuto vai un uomo di drago vabbè eccolo giralo tu vediamo quella giallo canarino giallo paglieri pronti ragazzi io mi sto cagassotto questa è più alla blu più alla rostana ecco quella era quella era del destino adesso darei schierpa schiena dai dai non siamo così prendine un'altra scusate vai vai questa dai vai uguale 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 lei è brava lei è brava pronti 3 2 1 vai il mio è buono è zuccheroso è blueberry è blueberry che bello mi è andata bene ragazzi abbiamo un vincitore giuria ne vuoi una regia ne vuoi una regia che ha spiegato quello che ha arancione quella è la più schifosa di tutti questa roba qui tipo questa cosa qui si fa schifo mi è andata bene ok abbia presa che gusto era 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 gusto oh gusto morte allora abbiamo il vincitore ragazzi bravo applaudiamo il vincitore ripeto come ti trovano loro su instagram evangerion con la r con la r trattino basso te invece come ti trovano nemuru trattino basso cos tu invece galaxy cos punto trattino basso trattino basso dagli e dagli e dagli e dagli e allora reggimi il microfono perché vo tu come chiedersi che ti chiamano alucard alucard ha vinto facciamo vedere il premio il premio il premio ha vinto dove sta ho perso il bigliettino eccolo no eccolo qua hai vinto una foto da farti fare da epicos grazie quello bello e poi dove l'hai messo l'altro sta qua dentro così te pulisci pure la bocca in pochi se vuoi te lo puoi anche smizzare se sei buono di cuore se no ti assi tu va bene noi ragazzi ci vediamo dove sta il microfono noi ragazzi invece ci vediamo al prossimo video ti piace le caramelle ne vuoi un'altra no tu la vuoi un'altra no tu lui sta bene ha vinto daie a me mi ha dato pure culo che ho trovato blueberry daie noi ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo sempre qui a Romics Shogary